Il grosseto calcio ha licenziato Tommaso Casalini, vice allenatore dei giovanissimi, dopo che su Facebook aveva insultato la giovane Greta Thunberg con una frase sessista e irrispettosa. Un'offesa pesante ad una ragazzina che ha l'età dei giovani che allena. Un post la cui gravità era stata sottolineata anche da Selvaggia Lucarelli, che aveva stigmatizzato le offese pesantissime contro Greta. Ieri sera la società ha preso una decisione importante e l'ha comunicata ai tifosi attraverso la propria pagina Facebook. In seguito a quanto apparso sui social, l'Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini, la società ha provveduto a sollevare lo stesso dall'incarico con effetto immediato, dissociandosi completamente dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune.